Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciaccheazione e oggi vi voglio parlare dell'ultima stagione della Casa di Carta cercando di non fare spoiler e cercando di spiegare come è stato questo finale e dandovi le mie impressioni su tutta la serie, tutta la serie tv e come al solito se non siete ancora iscritti al nostro canale vi invito a iscrivervi e a seguirci anche su Instagram e Facebook per non perdervi tutte le news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv La Casa di Carta Allora, La Casa di Carta per chi cercasse una recensione che vi dice che è stata il più verosimile possibile ad una situazione di quel tipo ha sbagliato recensione per me La Casa di Carta è diventata una serie di fantascienza è diventata una serie, un film di guerra però mi era molto piaciuto come era iniziata devo dire la verità, non starò qui a massacrare tutto il tempo la serie tv ma mi aveva preso molto parte bene, parte a bomba con la prima ma anche la seconda stagione ecco io per esempio avrei fatto finire la serie al termine della seconda stagione dopo la prima rapina dopo la prima rapina c'erano tutti i presupposti per far terminare questo prodotto certo saremmo rimasti con la voglia di vedere cose di vedere cose inerenti a questi ladri a questa banda alla quale ci siamo affezionati però potevano finirla lì facendo anche la terza e le stagioni successive c'è stato un voler mettere carne al fuoco per scopo di guadagno di introiti di tutto quello che c'è di economico intorno a un prodotto del genere e intorno a una serie tv che comunque vanta anche un apparato bello grande che sia di marketing, rivendita, di distribuzione di attori, di troupe, di sceneggiatura al di là di questo c'è stata la scelta di volerla continuare di fare una seconda rapina ecco per esempio quando ho detto fantascienza mi ricordo una frase che mi dicono spesso le persone che guardano la serie che dicono c'è quel pezzo di Tokyo che entra dentro la banca con la moto sulla moto e la provano a colpire, a sparare e nessuno la prende e sono diversi i momenti in cui ho avuto la sensazione che le scene fossero inverosimili o che stesse diventando un film di guerra banalmente l'ultima stagione divisa in due parti se mai ce ne fosse stato bisogno anche perché cinque puntate e cinque puntate avrebbero potuto farla tutta insieme in un'unica stagione ci sono motivi di introiti e di guadagni e di scelte Netflix dietro a questa scelta di dividere la stagione in due parti e sinceramente come ho detto poteva finire dopo la seconda stagione il finale il finale mi ha lasciato un po' perplesso nel senso che magari mi aspettavo più sangue più morti da qui in poi se ovviamente non avete ancora visto la parte finale della casa di carta vi consiglio di non andare avanti perché ci sarà qualche spoiler perché mi vorrei concentrare un po' di più sulla spiegazione del finale e analizzare un po' quello che è stato tutto il prodotto dall'inizio alla fine sinceramente mi aspettavo più sangue più morti un giorno dissi secondo me finisce che non gli va bene a questi ladri questa seconda rapina era già andata benissimo la prima c'era stato Berlino che era morto ok però comunque sia alla fine dei conti ne erano usciti con un lieto fine ok direte voi c'è stata la morte di Tokyo in questa stagione finale sono d'accordo è già un personaggio importante che se n'è andato però è anche vero che passarla liscia e uscire quasi tutti indenni da una cosa del genere ma non si può vedere cioè non esiste ma in nessuna parte del mondo tra l'altro il finale è stato è stata una scelta ok è stata una scelta di farla terminare così con un lieto fine per i ladri e un contentino se vogliamo tra virgolette per la polizia e diciamo che nel momento in cui il professore rientra nella banca per stare vicino alla banda e per poi trattare con 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 il commissario di polizia con il colonnello in quel momento poteva succedere di tutto è vero e la sceneggiatura ci ha accompagnato verso la fine lasciandoci un po' col fiato sospeso anche alla fine delle ultime puntate nel senso che uno poteva aspettarsi veramente che fossero tutti uccisi o che comunque il professore perisse perché io mi aspettavo anche dopo la storia di Berlino e di Cumi ci si era arrivati a questo colpo mi aspettavo anche che si potesse sacrificare una figura come il professore che era comunque stata una figura determinante in tutto il filo il filo della serie si è deciso di affrontarla in un modo diverso e di lasciare al professore modo di mettere in inganno e mettere alle strette la polizia facendogli un discorso che andiamo molto sulla microeconomia e su quello che potrebbe accadere ma è stato interessante anche vedere il discorso finanziario sulla bancarotta dei paesi europei e sul fatto che se dovesse accadere una cosa del genere ci sarebbero numerosi problemi a livello proprio nazionale per una rapina di questo tipo ma è anche vero e mi ha lasciato molto sorpreso molto ma molto mi ha lasciato di stucco il discorso sul valore dell'oro il valore dell'oro di una nazione è un'illusione questo ci fa capire che bastava che nella banca di Spagna ci fossero dei lingotti poi che fossero di metallo di ottone in particolare come il finale che vengono sostituiti da quelli di ottone dando questo contentino alla polizia e facendo credere ai mercati che i lingotti d'oro fossero tornati dentro la banca è un'illusione la finanza è un'illusione nel senso che è bastato quello a dire ai mercati che le cose andavano bene quindi che le cose potevano continuare come erano sempre state e invece il paese non aveva più la sua riserva d'oro che in teoria è il potere anche che ha d'acquisto a livello europeo a livello globale che lo rende una delle principali nazioni e potenze se vogliamo del vecchio continente al di là di questo che mi ha fatto molto pensare al valore dell'oro e quindi alla potenzialità economica di un paese è stato furbo il professore in quel momento perché uno è vero sospetterebbe oddio dopo una cosa del genere come fai a cavartela anche nel momento in cui entra dentro dentro la banca entra l'esercito e diciamo vengono presi in trappola i vari componenti della banda ho trovato alcuni momenti fuori luogo e fatti solo per allungare il brodo quando Denver Bacia Manila e quando diciamo ci sono quei momenti sì goliardici di divertimento che ci stanno pure quando scherza con Stoccolma e poi fanno l'amore dentro la camera blindata ci sono e ci stanno e è giusto perché allentano anche la tensione in un prodotto di questo tipo è giusto che ci siano questi momenti a spezzettare la tensione che abbiamo quando seguiamo il professore con Sierra che cercano di recuperare l'oro il bel colpo di scena ecco è stato il momento in cui il nipote che ci avevano fatto intravedere nelle puntate precedenti e io addirittura ho detto oddio il figlio di Berlino se la faceva con la moglie e ci sono rimasto in quel momento però hanno fatto benissimo che diciamo ci hanno sorpreso è stato un colpo di scena questo quando viene rubato l'oro proprio dal nipote del professore è stato un bel colpo di scena è stato bravissimo poi lui a saper trattare con la polizia e a non far credere a nessuno di aver perso l'oro anzi ha fatto credere ai poliziotti di non sapere nemmeno lui dove fosse in realtà l'oro rubato nel complesso è stata una serie che comunque ci ha accompagnato e ci ha ci ha tenuto incollati allo schermo negli ultimi due anni e che ci è piaciuta perché altrimenti non avremmo continuato a vederla potevano fermarsi prima rispetto a altre serie però sicuramente che avrebbero potuto fermarsi molto prima che sono arrivati alla decima stagione magari non sa avere più nessuno questa comunque è riuscita nell'intento di farci appassionati e sono curioso di vedere anche questo spin-off su Berlino che vedremo nel 2023 anche se al netto di tutto non so quanto ne avremmo avuto bisogno di questo spin-off complimenti comunque alla Spagna che comunque inizia a imporsi nel panorama dei film e delle serie tv a livello mondiale io vi ringrazio lasciatemi qui i vostri commenti ditemi cosa ne pensate della serie se vi è piaciuto il finale e se avreste spiegato la faccenda finanziaria e diciamo se l'avreste fatto in un altro modo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao